Milanello, conferenza di Terracciano, presentazione di Terracciano. Il ragazzo appena arrivato dal Verona ha spiegato a più riprese qual è il suo modo di vivere le partite di calcio. Ci sono state molte domande, era inevitabile, sul suo ruolo, sulle sue preferenze, sulle sue caratteristiche. Filippo Terracciano ha risposto, gioco dove serve, dove mi viene chiesto di giocare e cerco di essere utile alla squadra, di dare una mano alla squadra. I ragazzi di oggi vengono cresciuti così, i ragazzi di oggi non vengono incasellati in un ruolo. Oggi la formazione dei giovani giocatori, soprattutto i ragazzi che hanno caratteristiche fisiche e tecniche particolarmente duttili come quelle di Terracciano, vengono allevati, vengono innaffiati per risolvere situazioni e problemi di campo della partita. Non vengono cresciuti con la fissa di adeguare il proprio ruolo alle situazioni della partita. Quindi è una situazione che accomuna molti giocatori, per cui Terracciano certamente ha caratteristiche più difensive rispetto a quelle più centrocampistiche di Krunic, però la duttilità è quella. Quanti ruoli ha fatto Krunic nel Milan? Krunic in maglia rossonera l'ho visto giocare mezzala, l'ho visto giocare trequartista, l'ho visto giocare centrale basso, gli ho visto fare in qualche caso il terzino destro, contro il Borussia Dortmund ha provato anche a fare il difensore centrale. Nell'anno dello scudetto, Milan-Salernitana 2-0 a dicembre 2021, Krunic aveva fatto la prima punta, il falso 9, per l'emergenza di Fortuni in attacco. Quindi la duttilità è quella, Krunic l'ha sempre avuta, nei giovani italiani come Terracciano viene ricercata, viene allevata, viene innaffiata proprio a livello di formazione, di insegnamenti giovanili. Per cui ci mettiamo in casa un ragazzo che ha buoni valori, che ha piedi per terra, che ha testa sulle spalle e che cercherà sicuramente di dare una mano alla squadra. La concorrenza non mancava, l'operazione non si è tramutata in un'asta, altrimenti il Milan ne sarebbe uscito. E quindi da questo punto di vista ci siamo messi in casa un ragazzo che va in campo non per fare il fenomeno, ma per dare una mano, per essere ordinato, pulito e sobrio come è stato nel finale di gara con l'Atalanta. Qualcuno ha detto che Terracciano nella zona di campo in cui è stato schierato nel finale di Milan-Atalanta non aveva mai giocato. Non sono tanto d'accordo perché se voi, mi hanno aiutato le immagini diffuse dal Milan in questi giorni su Terracciano, se voi fate mente locale a Milan-Verona di settembre nel primo tempo c'era stata sul 1-0 per noi una grande parata di Sportiello sul colpo di testa di Foloruncio. Quel colpo di testa di Foloruncio nasce da un cross da sinistra con l'esterno destro di Terracciano, ma era sulla sinistra, era esattamente nella posizione in cui ha fatto partire qualche cross anche in Milan-Atalanta l'altra sera in Coppa Italia. Milan-Atalanta che continua a far discutere, ci sono tanti episodi che fanno discutere e noi dobbiamo trovare in un modo o nell'altro il modo di lasciarcela alle spalle anche se ce la porteremo dietro, anche se brucia, perché superare quel turno di Coppa Italia in questo momento della stagione avrebbe significato molto. Leggo molte critiche, io concentrerò il mio editoriale su Milan News domani mattina sul fatto che col Milan si è sempre molto esigenti come se il Milan fosse in una situazione di normalità, ma il Milan non è in una situazione di normalità. Tant'è che qui, avevo detto prima di Milan-Atalanta, la partita è 50-50 e, avevo detto sempre prima di Milan-Atalanta, finché siamo in emergenza dobbiamo vivere ogni partita cercando di sfangarla senza pensare alla prossima e per sfangarla deve esserci qualche episodio anche dalla tua parte, cosa che non è accaduta l'altra sera. Ho appena sentito al telefono, come spesso ci capita, Luca Serafini, eravamo entrambi nella stessa situazione, fra il sorpreso e il divertito, perché ogni giovedì va in onda live sempre Milan, sempre Milan è un contenitore di opinioni, interviste, commenti aperto a 360 gradi a tutti, che va in onda sul canale ufficiale Twitch del Milan, per la membership di YouTube sempre canale ufficiale Milan e su Milan TV. E ieri Luca ha fatto la sua analisi dalle 17.30, la live va in onda sempre Milan dalle 17 alle 18.30. Dalle 17.30 alle 18 è lo spazio riservato proprio in particolar modo, in principal modo, a Luca Serafini. Luca ha detto la sua, in quello spazio parla più Luca rispetto a me, proprio perché è il suo spazio, però nel poco che ho detto io, nel tanto che ha detto Luca, nessuno è intervenuto nel merito sui contenuti Luca nei miei confronti o io nei confronti di Luca. È chiaro che ci sono dei tempi, chiamiamoli anche se siamo anche sui social televisivi, per cui rispetto ad un intervento di Luca stavo cercando di sintetizzare il senso della sua critica e mi è scappato un però, però per sintetizzare, non per confutare, non per contestare Luca che è genuino nelle sue battute, ma però 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 c'è sempre un però e qualcuno in maniera secondo me un po' wireistica ha trasformato questo però 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 in una lite che non c'è stata. Ci siamo confermati, ripeto per sorpresa e divertito, che nessuno ha litigato. Io volevo semplicemente con il mio però arrivare a sintetizzare il fatto che in alcuni momenti delle nostre partite, è successo a Bergamo, è successo a Lecce, è successo a Napoli, è successo a Salerno, abbiamo un centrocampo che a me piace moltissimo, a me piace moltissimo il nostro centrocampo, poi nel video successivo parleremo di mercato e della costruzione del centrocampo. Il nostro centrocampo in alcuni casi ha il difetto di non vedere l'onda, di non avere il senso del pericolo e tant'è che nel momento in cui Olm abbatte Jimenez e si aprono dei varchi nella nostra linea difensiva, Kuhnmeiner si inserisce tranquillamente perché non c'era in quel momento la compattezza da senso del pericolo che serviva per arrivare all'intervallo sull'1-0. Noi dopo il gol di Leao, che ci era costato tanto lavoro nel primo tempo, tanta fatica con l'Atalanta, avevamo una cosa da fare, arrivare all'intervallo sull'1-0. Non l'abbiamo fatto e dobbiamo avere un centrocampo più preoccupato, non timoroso, diceva sempre Carlo Ancelotti. Preoccuparsi non significa essere negativi, significa occuparsi prima di un problema che potrebbe accadere in campo e io volevo semplicemente portare Luca su quel tema e quando ho portato Luca su quel tema Luca non ha obiettato, ma vedo che c'è una tendenza a voler strumentalizzare, a voler vedere liti e casi dove non ci sono, a voler dipingere gli aziendalisti e i non aziendalisti perché in questo momento fa un po' comodo così e piace così a qualche branco, ma la situazione che vi ho raccontato è esattamente quella che è accaduta ieri fra me e Luca, che ne abbiamo appena parlato appunto fra il sorpreso e il divertito. Ci vediamo e ci sentiamo fra poco parlando di mercato e di tendenze di mercato. A più tardi.